Buongiorno senatore Nicola Morra, grazie per aver accettato il nostro invito per questa intervista e benvenuto. Buongiorno a lei dottoressa Assaia e buongiorno a tutte le telespettatrici e tutti i telespettatori. Oggi 19 luglio ricorre un anniversario importante dopo la strage di Via Capaci che abbiamo ricordato il maggio scorso oggi ricordiamo Paolo Borsellino e purtroppo la strage di Via D'Amelio nel trentesimo dell'anniversario. Lei ricopre un ruolo molto importante a livello nazionale dell'Italia che è quello di presidente nazionale antimafia. Ecco io inizierei quest'intervista eh subito chiedendole subito chiedendole il ricordo e il memoriale di questi trent'anni attualizzato nel contesto sociopolitico italiano. L'abbiamo sentito più volte eh in Senato dire eh che probabilmente servirebbe una maggiore coerenza. Se eh le va di condividere con noi il suo pensiero al riguardo. Allora dottoressa Assaia io cercherò di essere schematico e logico. Io ho rimproverato allo Stato italiano di aver avuto spesso e volentieri atteggiamenti incoerenti. L'incoerenza è spesso sinonimo di ipocrisia. Ipocrisia è un difetto morale. Noi italiani siamo abituati a batterci il petto ufficialmente e poi a spregarci le mani effettivamente. Sono tanti quelli che godono, ribadisco il verbo scelto, godono nel fatto che non si arrivi a verità e forse non si possa più arrivare a verità. Cito per far capire meglio le parole dette in occasione della sentenza emessa il 13 luglio passato a Caltanissetta in merito al processo per il depistaggio operato attraverso Scarantino. Benissimo l'avvocato Fabio Trizzino avvocato della famiglia Borsellino in qualità di rappresentante della parte civile famiglia nonché 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 marito di Lucia Borsellino ecco l'avvocato Fabio Trizzino ha avuto da dire io mi rendo conto che questo è un paese anestetizzato che dedica più spazio alla separazione di Totti piuttosto che al depistaggio di via da meglio. Però la collettività deve essere informata e deve cominciare a pretendere i comportamenti diversi e soprattutto la verità. In quest'ultima parte della frase di Trizzino io ho qualche perplessità non mi ci ritrovo perché pretende chi ha rispetto di se stesso e vuole essere difeso salvaguardato nella sua dignità ma un popolo che preferisce panem et circenses o se vuole hilariam et francescum piuttosto che la verità sul depistaggio di un suo enorme magistrato che pur sapendo che sarebbe andato incontro a morte ha deciso di non scappare ecco quel popolo forse non meritava e non merita il sacrificio accettato da Paolo Borsellino però al tempo stesso la memoria mi ricorda e mi ricorda che Paolo Borsellino era un credente e per i credenti a valore Sodoma e Gomorra ma se ce ne trovo 500 ma se poi anche se non 500 ce ne sono 50 ma io dico se ce ne sono anche 5 la battaglia va fatta e quindi io sto qui ad accettare questa intervista appunto perché è mio dovere far sapere che lo Stato ha gravi problemi a sottoporre a processo se stesso perché le responsabilità dello Stato e di alcuni suoi uomini di vertice sulla strage di Via D'Amelio esattamente come sulla strage di Capaci barra isola delle femmine sono a chi vuol capire evidenti poi chi non vuol capire non capirà mai grazie per queste precisazioni ehm esistono diciamo il fenomeno mafioso si è evoluto nel corso del tempo ed esistono oggi diverse forme eh di mafie eh che purtroppo ci troviamo eh a combattere secondo lei un sistema che possa combattere davvero oltre a mettersi in discussione quali armi dovrebbe utilizzare se di armi allora noi citiamo spessissimo fall of the money di eh Falcone ma dimentichiamo la lezione del maestro di Falcone cioè Rocco Chinnici la mafia è inaudita tragica volontà di accumulazione di capitale e di conservazione dell'esistente la mafia è cristallizzazione del potere che tende a perpetuarsi io sono per formazione per studi filosofo non sono filosofo che sia chiaro eh eh Friedrich Nietzsche parlava di Machtville volontà di potenza la mafia è quel desiderio di distruggerli altri quando gli altri si oppongono semplicemente perché tu sei privo di rispetto di capacità d'ascolto e di umiltà con cui accettare il dialogo la mafia è in posizione del proprio ego a tutti gli altri ego in orizzonte e allora la mafia è relazionalità ma non relazionalità che riconosce all'altrui soggetto ugual dignità e relazionalità in cui una trama di potere deve permettere di subalternare di soggiogare coloro che si oppongono quindi è uno strumento la mafia con cui assoggettare al proprio volere gli altri per fare sudditi e per distruggere cittadini. Sosteneva che particolare merito dei cordonesi dovesse essere riconosciuto nella capacità di instaurare relazioni con il potere dei colletti bianchi quindi una mafia rurale una mafia avvezza ad usare lupara e pallettoni è stata poi capace per realizzare per esempio il famoso sacco di palermo di sedersi al tavolo con costruttori con banchieri con notai con sindaci con i cosiddetti colletti bianchi questa capacità propria di cosa nostra corleonese avrebbe permesso alla stessa di vincere la partita sgominando la vecchia mafia e dunque la mafia si è rivelata sempre più come aveva già capito Cesare Terranova maestro di Paolo Borsellino la mafia si è rivelata fenomeno ascrivibile alle classi dirigenti strumento di potere con cui imbarba alle leggi della democrazia il potere ha calpestato i diritti dei più deboli e dei più umili la mafia e veicolazione di volontà di potere di potere distruttivo propria di settori dominanti le società che vogliono la distruzione dei diritti sociali ed individuali per affermare i propri privilegi questo l'avevano capito assai bene Cesare Terranova e poi Pio Latorre per questo motivo grazie a loro si è realizzata la legge che noi oggi chiamiamo rognoni la torre ma che in realtà dovrebbe essere denominata la torre ed altri noi dobbiamo sottrarre ricchezza risorse ma gli aggiungo anche intelligenze a cosa nostra mi creda io ogni tanto sono finito in carcere a visitare i detenuti al 41 bis e soprattutto all'alta sicurezza e mi sono reso conto che è straordinario il quoziente intellettivo di chi appartiene alle consorterie criminali di stampo mafioso assolutamente chiaro e questo fa rabbia perché lo stato democratico dovrebbe non abbandonare ma piuttosto arruolare le migliori intelligenze per far crescere lo spazio per i diritti per estenderle tutele sociali e individuali al contrario li sospinge in un mondo grigio che è quello del crimine che apparentemente è contro lo stato ma che molto spesso funziona come strumento di potere con cui gli occupatori dello stato democratico continuano a mantenere posizioni di privilegio fregandosene dei valori della carta costituzionale tutto questo che lei ha appena annoverato citato e spiegato in maniera eccelsa come si coniuga con la riforma della giustizia qual è il suo parere benissimo le faccio un esempio su tutti innanzitutto noi avevamo la prescrizione adesso useremo un altro termine per indicare la stessa procedura si chiamerà l'improcedibilità e con l'improcedibilità di fatto lo stato abdicherà al suo ruolo decisivo che è quello di far giustizia in più l'improcedibilità verrà accompagnata da altre dinamiche che impediranno comunque di far giustizia per esempio sarà il parlamento ad indicare annualmente quali debbano essere i reati da perseguire più efficacemente più frequentemente e allora questo significa che c'è un volere politico che distingue reati è ovvio che a questo punto chi è intelligente capirà quale sia la strada da battere da seguire ma le faccio anche un'altra riflessione in base alla riforma cartabia il magistrato verrà valutato non per la complessità dei processi che porterà sentenza non per la complessità dei fascicoli che istruirà che esaminerà e che tradurrà in procedimenti ma per il numero degli stessi e allora glielo dico con parole che forse non sono consone fra una cazzata ed un'indagine complessa su una strage se tanto mi darà tanto io magistrato che sono in qualche modo attento a far carriera seguirò aprirò il fascicolo sulla cazzata e terrò chiuso quello che implica un'indagine complessa e che potrebbe esitare in maniera negativa nel nulla o addirittura in un processo che si concluda con una sentenza da soluzione pregiudicando anche il mio futuro professionale e quindi se tanto mi da tanto io a questo punto privilegerò il lavoro che mi porta in discesa all'esito facile facile senza impegnarmi in qualcosa di più difficile più complesso lei è siciliana quindi queste cose le capisce meglio di me cosa nostra ha fatto mai schifezze in maniera chiara e solare oppure ha incessantemente offuscato nascosto maschariato complicato occultato sporcato a lei la risposta a me e a tutti i siciliani che sicuramente guarderanno questi anche a tutti gli italiani perché la sicilia è in Italia e perché ormai le schifezze di matrice mafiosa anche calabrese anche campana si trovano anche in Val d'Aosta anche in Trentino anche in Lombardia in Piemonte in Emilia in Liguria in Veneto quindi dappertutto e con questo eh andiamo a parlare anche di un altro evento importante che si svolgerà a Barcellona Pozzo di Cotto unica tappa siciliana il prossimo trenta luglio eh lei parteciperà eh ad un evento che è quello della presentazione del libro di Sallusti e Palamara eh che si intitola Lobby e Logge ehm una una riflessione su questo libro perché ha accettato di essere al fianco di Palamara il prossimo trenta luglio e di riflettere insieme a lui e soprattutto di non sottrarsi alle domande e riflessioni del pubblico e del giornalista Enzo Basso che eh procederà a moderare l'incontro Guardi sarò molto molto netto innanzitutto non è la prima volta che sono al fianco di Luca Palamara per presentare questo libro tant'è che è stato presentato anche in Senato per iniziativa del sottoscritto e con la partecipazione di Andrea Purgatori di Alfonso Sabella e anche del coautore Sallusti di conseguenza ci tengo a precisarlo così come si debbon frequentare collaboratori di giustizia perché sono delle miniere informative pressoché inesauribili io per quanto sottolinei che i comportamenti del dottor Palamara siano stati assolutamente riprovevoli esecrabili e pertanto inaccettabili ho il dovere comunque di sottolineare che quei comportamenti sono stati efficaci hanno prodotto schifezze perché erano posti in essere anche con tanti e tanti altri e allora non mi va che la giustizia a chi ha più uno lo massacri perché ha fatto schifezze e si dimentichi che quelle schifezze sono state possibili dall'attuale omertà complicità di migliaia di altri magistrati che oggi si strappano le vesti e si strappano i capelli ma prima condividevano con Palamara lo schifo anche quelli che oggi fanno le verginelle io non ho mai brigato per mandare al capo della procura di oppure come presidente della sezione fallimentare del tribunale di chi che sia e questo lo si capisce anche recuperando chat whatsapp e così via io posso augurarmi che una persona definita dagli stessi magistrati incorruttibile serissima, integerrima come per esempio il dottor Marcello Viola che voi siciliani conoscete assai bene ecco posso augurarmi che divenga procuratore capo in un ufficio giudiziario particolarmente importante ma non ho mai fatto un messaggino del tipo è possibile salvare il soldato de Rao e questo messaggino l'ha scritto qualcuno che all'epoca quando scriveva era ministro dell'interno ho detto tutto bene ultima domanda se me la concede visto che siamo alla vigilia di qualcosa che accadrà a breve e che riguarderà la crisi di governo e quindi tutti gli italiani lei come noto non ha mai appoggiato il governo Draghi sono stato espulso per non averlo fatto le chiedo secondo lei cosa gli italiani devono sperare? qual è il meglio? e secondo la sua previsione, la sua riflessione cosa succederà tra 24 ore? dottoressa Saier io le chiedo scusa ma vado più in là gli italiani non debbono sperare in altri debbono sperare in loro stessi se saranno capaci di fare una rivoluzione culturale noi abbiamo avviato questa intervista ricordando le parole di Fabio Trizzino se agli italiani interessa di più la separazione di Totti piuttosto che il depistaggio che impedisce di arrivare a verità è una strage enorme, inaudita di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze questo significa che agli italiani interessa non la politica come dimensione pubblica con cui far crescere diritti nella consapevolezza che ci sono enormi doveri di cui i cittadini debbono debbono rispondere ma gli italiani piace Panem et Circenses e fin quando piacerà questo c'è ben poco da sperare e allora noi dobbiamo tornare a lavorare sulla rivoluzione culturale perché accetto l'invito a Baccellona Pozzo di Gotto perché andrò il giorno dopo a Vibo Valencia sempre per presentare il libro di Palamara perché è giusto che quei pochi italiani che saranno alle nostre presentazioni del libro poi tornando a casa, se ne saremo capaci memori di quanto detto facciano quello che stiamo facendo noi e cioè i missi dominici tornando a casa ragionino del malfunzionamento della giustizia del fatto che ci sono tanti che per esempio investendo nello sport vengono ad essere o truffatori o truffati noi siamo a poca distanza da Reggio Calabria è notizia di ieri che l'ex presidente della Regina Calcio sia andato incontro a provvedimenti restrittivi ulteriori ma lei sa che mi sta interessando anche di vicende che afferiscono la viola Reggio Calabria altro non debbo dire Va bene senatore, io la ringrazio per averci concesso questo spazio queste sue riflessioni e la aspetto a Barcellona Pozzo di Gotto Sarà un piacere Arrivederla e buona giornata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti